Vietato, innamorarsi in chat. La chat non deve essere un luogo di innamoramento, è assolutamente vietato, perché le persone che si innamorano di qualcuno che non hanno conosciuto, diciamo dal vivo, al 99% verranno vinculate, cioè si prenderanno delle grosse cantonate. La chat deve avere solo un unico scopo di fare selezione, punto e basta. Selezionare uomini o donne che potrebbero essere simili a voi e quindi avere, diciamo, avere anche una valenza per fare una cernita, ma le persone che si innamorano in chat, cioè io ho sentito persone innamorate che soffrono poi perché sono state lasciate, lasciate da qualcuno che non hanno neanche mai conosciuto e vivono stati di sofferenza molto forti. Ma cosa c'è di più stupido che innamorarsi di una persona che non è mai visto, che non è mai interagito direttamente? Eppure vi garantisco che ci sono persone che soffrono. Ah, mi ha lasciato, mi ha lasciato, ma avevi una storia. No, però abbiamo chattato tre mesi, quattro mesi e poi è sparito. Ma non esiste chattare tre mesi, quattro mesi e poi è sparito. Bisogna chattare una, due settimane, non di più. Poi se questo qui non ti, se tu sei donna, insomma, se non avviene un incontro reale, dopo una settimana o due, sparisci tu. Sparisci tu e vatti a cercare un altro, levatelo dai coglioni, perché allora potrebbe essere un allumeur o un allumeuse, che è uno che, chi sono queste categorie? Allumeuse e allumeur, ok? In francese significa lumicino, no? Sarebbe la candela, perché sono normalmente persone che sono impegnate, normalmente persone che sono sposate, che non hanno nessuna voglia di tradire la moglie, non hanno nessuna voglia di incontrarvi, ma si godono semplicemente un piacere egocentico di far innamorare le persone inviaciate. Ma fino a se stesso, punto. Loro sono felicemente sposati, sono felicemente impegnati, ammazzano il tempo libero, diciamo, per dimostrare fondamentalmente a se stessi di essere in grado di far innamorare una cretina qualunque, anche magari in chat. E hanno tantissimi chat in parallelo, no? Usano il copi in colla, hanno tantissimi chat in parallelo e possono portare... E questi ci sono sia uomini che donne, non ci sono solo... si chiamano allumeuse se sono donne che fanno questa cosa qua e fanno innamorare gli uomini. All'humour, se sono uomini, cercano di fare innamorare le donne, insomma. Comunque, il concetto di fondo è questo, che questa tipologia di persone non ha nessuna voglia, nessun interesse di incontrarvi. ovviamente vi racconteranno che sono single, ma in realtà sono tutti impegnati, sposati, e giocano nella chat, no? Che non c'è niente di male in questo, perché non è... io non attribuisco a loro la colpa. Ui dicono, ah, mi ha preso per il culo, ah, mi ha preso... mi ha detto delle cose, mi ha preso per il culo, mi ha preso qua, mi ha detto questo, mi ha detto quello, ma non ti ha preso per il culo nessuno. Sei tu che ti fai prendere per il culo da sola, dando credito a chi non ti propone un incontro reale. Cioè, chi non ti propone un incontro reale, o se tu gli proponi un incontro reale, questi spariscono, lascia perdere. Un'altra categoria che vi suggerisco di lasciare perdere è quelli che abitano dalla parte opposta del globo, insomma. Cioè, non potete, se voi abitate in Val d'Aosta, come dire, sperare di avere una relazione con uno che abita in Sicilia. Può capitare, per carità, che dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dall'Alpi, dal Manzanar al Reno, può essere, insomma, che le persone si innamorano anche a distanza. Però diciamo che l'incontro a distanza, le relazioni a distanza, poi, adesso non è che dovete scegliere una persona, il vostro vicino di casa, di pianerottolo, ovviamente. Però potrebbe essere, diciamo, anche 100 chilometri. Mettiamo anche 200 chilometri, proprio per dire, ma non di più, non di più, perché altrimenti diventa veramente complicato, no? Cioè, potete avere sicuramente un'amicizia, potete, ma per avere una trasgressione va bene tutto, eh. Nel senso che se voi avete anche il Val d'Aosta, quello abiti in Sicilia, vi incontrate una volta, vi fate una sana scopata, questo può andare benissimo. Perché, diciamo, questo può andare benissimo, perché lo fate per farvi una sana scopata, ma non per fare altro. Altrimenti non vi conviene, ovviamente. Altrimenti non vi conviene, vi conviene scartare e tenervi quelli che poi vi propongono un incontro reale. Il primo incontro reale deve venire, diciamo, in un, deve essere un incontro rapido. Cioè, quando incontrate per la prima volta alla persona, non proponetegli una cena, perché poi se quella persona lì vi fa schifo, vi siete impegnati la serata. Quindi proponete un caffè veloce e di giorno. Questo deve essere il primo incontro con una persona, che deve avvenire anche dopo una settimana di chat. Diciamo che il tempo medio è una settimana di chat, non di più. Se questo dopo una settimana, vedete due settimane, cincischia fuori dai coglioni. Primo incontro può essere dopo una settimana, deve essere un incontro rapido, in cui vi impegnate un quarto d'ora, non di più. Poi, se la persona vi piace, potete eventualmente prolungarlo, ma voi dite un caffè in centro, diciamo, guarda, ho giusto un quarto d'ora di tempo quel giorno lì, vediamoci in centro, ci prendiamo un caffè e ci conosciamo. Punto. Quello è il primo incontro. Ci sono donne che la danno già al primo incontro. Ma che senso ha darla al primo incontro? Cioè, è ovvio, poi si lamentano che quello sparisce. Se tu la dai al primo incontro, è ovvio che sparisce. Cosa pretendi? Che poi, è ovvio, quello arriva, si ingrassa, ti tromba e se ne va. Cioè, primo incontro rapido, in centro, dicendo già che hai fretta. Anche lì come devi presentarti? Non devi presentarti come zoccolona da corsa, puttanona da competizione. Cerca di presentarti in modo elegante, ma sobrio. Cioè, cerca di valutare soprattutto a livello non verbale quali sono le caratteristiche quali sono le caratteristiche con le quali puoi interagire con la persona. Questo è un altro punto molto importante da prendere in considerazione, no? Quali sono le modalità con la quale, come interagisci con questa persona? Che linguaggio non verbale ha? Qua vi suggerisco di andare a vedere tutti i miei video che ho fatto per capire se una persona, diciamo, sconosce il linguaggio non verbale, se una persona ti tradisce o non ti tradisce, se una persona traditrice, se mente, insomma, il primo incontro dovrebbe essere così. E poi, successivamente, ci possono, se la persona ti piace, se non ti piace, blocca subito, così almeno te lo togli dei coglioni al più presto, blocca subito dappertutto. E se la persona ti interessa, ti piace, ovviamente non devi montarti la testa, ma ci possono essere, diciamo, successivi incontri, ma prima di darla o prima di chiederla se sei maschio, perché anche il maschio deve evitare di chiederla, dovrebbe, possono avvenire una serie di incontri, insomma, ci va almeno un mesetto di frequentazione se la cosa funziona. Ecco, questo è un po', diciamo, l'archetipo. E ovviamente conviene in chat agire in parallelo, cioè non solo su una persona, cerca di conoscere tre, quattro, cinque persone in parallelo, in modo tale che in una settimana puoi conoscere quattro o cinque persone, in modo tale da scartare poi quelle che non ti interessano e di portare avanti le relazioni che ti interessano. Quindi ci devono essere due selezioni. La prima selezione è direttamente online e la seconda selezione che deve avvenire direttamente, diciamo, dal vivo. Quindi porta avanti tante chat in parallelo, non andare su una chat esclusiva, quattro, cinque, sei, e in una settimana riesci a schermare e vedere quelle due o tre persone con quale portare avanti la relazione e vedere qualcosa di più. Bene, nel frattempo iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok, e ovviamente puoi fare donazioni al canale che sono...